guardi chi è? eh vedi così infatti come si avvicina alle zampe piano Stan, piano no, lascialo stare, lascialo stare lascialo, lascialo tanto ormai ha capito che stanno giocando che c'è? ti incazzi perché non ce la fai? non ce la fai? sempre così si sdraia si è perché gli ha fatto capire più e dire sto giocando ma l'energia pazzesco ha bisogno di giocare almeno un'ora così non si sta non si sta attento ehi vatti ho capito però vabbè ti serve la lezione? devi tappare di questo ma che c'è gioco? ahahah 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 ahah ahahah 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 immaginate le sce dell'incomprensione ahahah 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 ahahah